buongiorno a tutti e bentornati sul canale un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti ho visto che siete in aumento sono contento perché si vede che gli argomenti del canale vi interessano sia quelli di viaggi e quelli di diciamo upgrade abbiamo superato i mille iscritti e sono veramente contento dopo l'installazione della batteria litio se vi siete persi video vi metto qua in alto la scheda dove potete andarlo a vedere oggi installerò un nuovo inverter da 1500 watt onda pura ma che cos'è un inverter un inverter è un apparecchio elettronico che converte la corrente continua in corrente alternata in questo van abbiamo una corrente continua 12 volt viene convertita da un inverter appunto a 220 volt uguale alla corrente di casa in questo modo possiamo far funzionare tutti quegli apparecchi che hanno bisogno di questo tipo di corrente ma quante tipologie di inverter ci sono esistono inverter ad onda quadra per carichi puramente resistivi inverter ad onda quadra modificata e poi inverter ad onda pura per tutti i tipi di carico e quest'ultimi riproducono fedelmente la la rete che si ha a casa la rete elettrica di casa perché esistono queste tre tipologie perché dipende dalle esigenze che uno ha se non avete esigenze particolari non alimentate motori elettrici come quelli di una macchinetta del caffè un phone oppure non alimentate una televisione potete benissimo utilizzare un inverter come questo che è un 600 watt onda quadra modificata tra l'altro questo costa pochissimo circa 40 euro su amazon si può alimentare direttamente dalla presa 12 volt senza attaccarlo direttamente alla batteria perché questi di solito si attaccano al positivo negativo di una batteria ma questo lo possiamo usare solo ed esclusivamente per alimentare degli alimentatori ad esempio quelli del computer per caricare la batteria o caricare la batteria del drone mentre se avete altre necessità come appunto alimentare una macchinetta del caffè nespresso un phone una radio una televisione che vanno a 220 volt è strettamente necessario utilizzare un inverter ad onda pura perché perché se alimentate un televisore con un inverter ad onda modificata probabilmente lo vedrete molto male ci sono delle armoniche che entrano dentro e ci sono un sacco di disturbi oppure se alimentate una macchinetta del caffè la rompete quindi una volta studiato che cosa si vuole fare con un inverter e capito che si ha bisogno di un inverter come mio consiglio comunque comprate l'onda pura perché è uguale e identica alla corrente che avete in casa bilanciata stabilizzata è una tecnologia molto più complicata rispetto a un'onda quadra modificata procediamo con l'installazione per installarlo ovviamente bisogna smontare il sedile perché lì sotto c'è tutta la tecnologia il cuore dell'energia elettrica di questo camper la posizione che ho scelto è questa dietro il sedile passeggero dove ho montato la batteria a litio ho installato del velcro in modo che così non devo avvitare nulla altro velcro l'ho messo qua qui qui e anche qua perfetto il positivo dobbiamo attaccarlo nella parte centrale del trilink questo qui è lo shunt calcola il carico gli assorbimenti delle utenze quindi quando l'inverter sarà in funzione verrà calcolata tramite lo shunt l'assorbimento della batteria bene questo video finisce qua se avete delle domande scrivetemele qui sotto in descrizione ovviamente vi risponderò appena possibile non è stato un video lungo perché montare un inverter è veramente semplice basta mi raccomando pollice in su se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella ciao a presto iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale Grazie.